Non si può fare contenti tutti, anzi per meglio dire noi non dobbiamo fare contenti tutti perché nella vita spirituale le cose non funzionano così. Noi siamo chiamati a vivere quel progetto di Dio che ha per la nostra vita, quando Egli ci ha chiamati ancora prima che noi esistessimo, il quale ci ha scritti nel libro della vita prima ancora che venissimo al mondo. Quindi inevitabilmente se noi cammineremo in sentieri di giustizia, di verità, di luce, le tenebre si dovranno allontanare e noi non possiamo e non vogliamo rimanerci male perché è una cosa del tutto naturale. La verità, la luce allontana la menzogna, allontana anche la tenebra e talvolta queste tenebre possono venire contro la nostra vita, attaccarci, ma non ci dobbiamo stupire come se fosse qualche cosa di straordinario o qualche cosa di inaspettato perché la scrittura è molto chiara a tal proposito. Non ci dobbiamo aspettare gli applausi del mondo o degli eretici o delle false religioni. Noi siamo qui come ambasciatori di un regno che è un regno eterno. Quindi noi siamo sì nel mondo ma noi non apparteniamo a questo mondo. Pertanto vogliamo proseguire desiderosi di portare il messaggio dell'Evangelo di Cristo, di essere disponibili per il prossimo e di essere veramente autentici testimoni di Cristo, testimoni di luce in un mondo di tenebre. Quindi coraggio proseguiamo il cammino che ci è posto dinanzi, proseguiamo quella corsa che lo Spirito Santo esorta nei nostri cuori a camminare verso il regno che è già cominciato nei nostri cuori e che presto si manifesterà in gloria e potenza eterna al ritorno di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che con il Padre e lo Spirito Santo è benedetto in eterno.